e benvenuti a consigli non richiesti il podcast pigro che vi consiglia serie tv film e cinemi a un solo clic da voi per veri pigri che cavolo dico a fare che tanto lo dice poi la sigla giusto affredino vai sigla no che cazzo sigla scusami a parte come ti permetti come ti permetti a prendere tu il comando che comando io qua seconda cosa che fai non presentiamo nico chi è e ora il traffico nico prego di qualcosa giusto per far capire che c'è la tua presenza perché alfredino è una merda perché anche se noi lo facciamo la puntata la registriamo su twitch dal vivo e ci vediamo in faccia chi ascolta il podcast non ci può vedere perché il podcast come tu ben sai alfredino non lo sai si vede è solo audio quindi questa tua maleducazione contro nico permetterà nico di poter prendersi una bella fetta e poter dire lui chiaramente quello che doveva dire adesso vai nico the stage is yours sigla e qua c'è la sigla la sigla abbiamo questa adesso di sigla no questa ok eccoci qua mi è piaciuta la sigla mitica chiara mitica chiara che ci dà questa sigla meravigliosa che ogni volta che l'ascoltiamo è sempre un piacere giusto alfredino alla grande meravigliosa grazie alfredino il tuo apporto sapete che sapete che io non sono uno molto espansivo quindi vi dovete accontentare che comunque tutto sommato è anche una qualità ottima per chi conduce un podcast esatto esatto mi piace il fatto che tu hai una mimica facciale fantastica e per i podcast è la cosa più importante avere una mimica facciale poi questi silenzi così che tanto io poi metto la sigletta sotto quindi un gatto di marmo un gatto di marmo sì un gatto di marmo non farei gesti che la gente che poi poi ci dispiace che la gente non può vedere le mosse che fai che sono così non saprei anche che dire perché sono ti posso anche più insultare perché se insulto a te insulto una categoria in generale qualsiasi cosa possa dire posso insultare una categoria e qualsiasi categoria può venire a fare il mazzo su instagram quindi visto che io sono politica politica sono una persona corretta cioè sei nulla di tutto ciò e sono corretto oggi offenderò nico e com'è che l'offendo nico dicendogli che il sondaggio sull'instagram ha portato a una percentuale altissima di gente che mi dà ragione menzogna qual è il sondaggio per chi vuole recuperare il sondaggio vada una scorsa puntata ascolti almeno un minuto e mezzo così ci prendiamo l'ascolto poi fate che cazzo volete però almeno un minuto e mezzo e capirete che parlavamo di un film il film di lupeno dove io dicevo una cosa del film e nico diceva un'altra cosa abbiamo fatto il sondaggio e il pubblico che molto spesso sbaglia come x factor che ha mandato via i malangonia malangonia questa volta ha detto basta votare le cose negative votiamo facciamo del bene votiamo freg e infatti se come si dice quando una persona fa una cosa negativa però poi fa una cosa positiva che gli permette di tornare a essere una persona normale come si dice si è redento redento mi piace mi piace è un ottimo termine mi fa molto come dice ok mia ragazzi che c'è che c'hai che c'hai sto parlando che vuoi se dovessimo avere problemi con la banda ragazzi non vi preoccupate perché la banda non ce la fa reggere l'ego di fregt mi raccomando quindi è normale se salta la banda mi raccomando tranquilli quando non sapevi che cavolo dire mi piaceremo dice abbastanza va bene sono freddino eccomi qua vai con la sigla ti preferivo ti preferivo freddino tipo tipo ciro presente il pupazzo ciro che tu schiacci la manina c'ha due o tre frasi che dice ecco però però oggi oggi andiamo al sodo perché adesso a offendere l'alfreddino ci divertiamo tutti però ogni tanto bisogna fare le cose serie non è che possiamo sempre offendere l'alfreddino a parte mi prude il naso e quindi devo cercare un modo per dare la palla a nico e potermi grattare il naso nico nico oggi oggi tu mi hai fatto fare una cosa brutta mi hai fatto fare una cosa bruttissima mi hai detto guardati sto film che è bello io l'ho guardato ed era brutto quindi prima di consigliare un film perché non possiamo consigliare una cosa brutta bisogna sconsigliarvi non lo facciamo mai bisogna sconsigliarvi un film ti prego parlaci del film che mi è costretto a guardare ma molto volentieri allora innanzitutto ci tengo a precisare che non ti ho mai consigliato di vederlo uno e due non capisco cosa facciamo a fare le riunioni pre live che avevamo deciso che parlava prima alfreddino e poi io ma va bene uguale detto questo il film che abbiamo iniziato prima tu e poi alfreddino sapevo io no 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 hai detto prima io poi poi dico però mi fa piacere che allora mi fate allora facciamo così comando io e faccio come dico io va bene così mi piace io ho votato la democrazia ho votato la democrazia non ha funzionato vai con la dittatura ecco ma ci fa piacere che comunque se uno fermo nelle tue convinzioni quindi alfreddino guarda che posso riportare gli us prima notti non so perché ma così è un'idea fissa è un'idea fissa di frecchette questa cosa dello use prime notti c'è qualcosa che ci devi dire qualcuno dei tuoi amici si è fidanzato barra si sta sposando con qualcuno che ti piace i miei amici sono voi oh mamma mia allora che il cerchio il cerchio si stringe il cerchio si stringe visto che alfreddino non è fidanzato andiamo col film vi prego non inizia a fare illazioni che poi si finisce per fare qua gossip e non è questa la sede opportuna per fare gossip qui siamo a consigliare ma prima sconsigliamo raccontaci il film che mi hai fatto vedere dai abbi il coraggio delle tue azioni ma va bene continuiamo con questa linea di pensiero che te l'ho fatto vedere io comunque il film in questione che sono cinque minuti che ne parliamo non l'abbiamo ancora detto è il talento del calabrone film esclusiva di amazon prime film italiano con sergio castellito e in questo film c'è dj step che è un dj di radio 105 perché è proprio contestualizzato in radio 105 che conduce questo programma serale per super giovani bit time milano bit time italia è il claim di questo di questo programma il claim mamma mia come parli for mamma vai vai piace ti piace e cosa succede durante il programma come accade in molti programmi radiofonici ci sono gli interventi degli ascoltatori e sfortuna vuole che in una puntata specifica chiama questo questo ascoltatore che decide di suicidarsi lo dice apertamente ai microfoni della radio dice io questa sera ho deciso di suicidarmi chiaramente dopo un momento iniziale di leggero sgomento decidono di chiudere lo sgomento ma che ti sei mangiato zingaretti allora io dico sì no e poi ti faccio un rutto nel microfono comunque sei proprio un cacaminchia alfredino devi starti calmo ok ci siamo lamentati prima che non parlavi più mi rimangio quello che ho detto va bene mi rimangio quello che ho detto torniamo al film torniamo al film e decidono quindi di chiudere la telefonata e cosa succede nel momento in cui stanno per chiudere la telefonata esplode un il tetto di un palazzo a pochi poche centinaia di metri adesso pochi isolati dalla sede di radio 105 dove stanno registrando il programma da qui chiaramente il collegamento è che è stato fatto saltare dal dall'ascoltatore che è in macchina mentre sta chiamando la radio quindi tutti quindi da yard 3 con la radio 105 senza john mcclain sostanzialmente sostanzialmente quindi chiaramente prendono sul serio la questione intervengono i carabinieri il programma programma radiofonico va avanti tenendo sempre la telefonata attiva perché così è stato chiesto dai carabinieri varie richieste da parte del dell'ascoltatore che vengono sempre puntualmente che è sergio castellitto che è sergio castellitto sì finché poi non si arriva al plot twist del film che adesso chiaramente per motivi di spoiler non diciamo e il film si conclude in una determinata maniera che ripeto sempre per spoiler non diciamo detto questo la trama è questa in soldoni ma è così da yard 3 in verso in salsa italiana con questo che va in giro con milano in macchina poteva anche sembrare un'idea non dico interessante ma neanche brutta meno sì neanche brutta infatti il trailer mi aveva incuriosito molto da qui la tentazione di guardarlo ma soprattutto di consigliarlo caldamente a frecchete è stata una cosa orribile ho visto il film e prima di tutto c'è un personaggio che tu non hai nominato che è il capo ispettore vatte la pesca che è la foglietta che una volta ci volevo arrivare una volta c'erano i ruoli e li faccia tutti fa vino ora sono tutti i ruoli femminili e le fa la foglietta chi arriva nella stazione polizia vestita come adam wong di resident evil 2 questo vestito perché lei stava una festa perché ovviamente è una mostra molto importante di notte arriva e che cosa fa tra l'altro no tra l'altro mostra in palazzo reale in piazza d'uomo così perché ovviamente l'arma è molto bisogna dire che i carabinieri sono molto famosi in italia per la loro estrema cultura no non ci sono libri di barzellette su di loro però vabbè attento senza nulla togliere carabinieri noi però ecco ringraziamo l'arma per averci fornito comunque i servizi che ci fornisce e gli arresti domicili ad alfredino che è arrestato alfredino è la cosa bellissima però il bellissimo che lei arriva a un certo punto fa chiamatemi laker chiamatemi cacchiomazzo poi inizia a parlare di cose strane a caso socket non socket io sono un informatico non ci ho capito una fav di quello che hanno detto poi arrivano lì lei ci ha il vestito elegante e si mette la pistola tracollo perché gli anfibi a parte gli anfibi va beh ci sta non vuole starsene come si chiama i tacchi ci sta ma che ti metti la pistola tracollo che perché il testo sta in macchina è un dinamitardo poi soprattutto l'arma non dovresti farla vedere poi c'è il tuo amico maresciallo che a massimo te la passa che te la metti a tracolla così giusto per e poi non fa altro che fare le faccette e poi non si sa per quale motivo a un certo punto gli dice delle cose strane a step adesso insultano ma non lo insultare fai così di lì che c'ha che c'ha sta cosa lui e sto step a un certo punto cioè io empatizzavo per lui dice porca puttana da maresciallo deve dargli una mano lo mette ancora più nei guai però poi arriviamo al plot twist e vi dico che di una di un moralismo e poi non sta in piedi ma neanche perché poi c'è il personaggio alla boris la ragazza di step che recita come reciterebbe la crescentini in boris quindi siamo lì che dovrebbe essere un personaggio di un certo rilievo di un certo spessore quando finisce il film io non capivo se era ironico il personaggio no poi parlando una persona che l'ha vista assieme a me mi ha detto no quello è un personaggio serio ha un ruolo chiave che io non lo capivo perché recitava così male che faceva il giro lei sembrava la sottotrama comica perché diceva la classica roba oh stai tranquillo a famo strano sembrava lagerini in milioni di follower sembrava lagerini in come cavolo si chiama dai quel film no viaggi di nozze solo che lagerini in viaggi di nozze è un personaggio comico questo dovrebbe essere un personaggio chiave o c'abbiamo i follower guarda qui adesso faccio tutte raggio a stepney come cazzo si chiama quello lì step no si chiama stepney salutiamo stepney ciao stepney salutami gli amici tuoi che non so lui è amico di favij non ne capisco niente io ciao favij ciao salutami i soldi e quindi quindi è un film brutto ho parlato con jennifer rari che mi ha detto che l'ha fatto schifo pure a lei è un film veramente questo non vuol dire niente comunque con tutto è un film veramente brutto 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 però ha una bella fotografia milano è tipo come si dice c'è questo effetto c'è questo effetto alla csi milano che sembra una città internazionale sembra la città internazionale sembra la città di milano mamma mia abito qua ne esce bene milano da questo film ne esce bene milano fino alla fine è bellissima questa cosa di milano che a un certo punto sembra una città cosmopolita sembra una città che ha un certo livello però visto che dovevo considerare un film bello su amazon mi sono accorto che c'è un film meraviglioso non so se l'hai visto tu alfredino mostro per fare il titolo sto per dire il titolo che cacchio per fare sei attento alfredino attenti carico voglio dire la tua faccia quando diremo il titolo gli consigliamo su amazon adesso poi ci racconterà la trama alfredino o nico slevin patto criminale che è un titolo orrendo del versione inglese che la lucky number slevin l'hai visto alfredi si ai tempi ai tempi perché che morto è vecchio non è uscito ieri è vecchio non è uscito ieri però c'è un personaggio che somiglia molto ad alfredino che è l'ebreo mi pare no il rabbino il rabbino perché si chiama il rabbino non lo so è un rabbino che vuoi grazie alfredino mi sei sempre così puntuale nelle tue cose prego raccontaci un po la trama se ti ricordo se la racconto io che devo fare e dire che allora niente slevin patto criminale invece è il film che consigliamo caldamente caldamente se non l'avete mai visto vedetelo facetelo facetelo subito è che un pochi film che dura poco nonostante sia un film di quelli che ha i classici finali plot twist segue film che ti tengono su tipo due ore di film e poi la mezz'ora finale dice madonna che ficata questo film nonostante questo ci tiene un'ora che ci indrattiene e poi c'è la mezz'ora finale col plot twist è un bel film non è un capolavoro ma sai perché perché i film che ci mettono due ore per arrivare al plot twist finale usano quelle due ore per preparare il plot twist finale esatto però è fatto talmente bene che non servono due ore per arrivare al plot twist finale ma bastano le ma raccontiamo raccontiamo nella trama a fredino nico raccontiamo nella trama prego è un scusatemi è un film che parla di vendetta all'inizio del del film viene raccontata una storia la storia di questo padre di famiglia quindi con con un bambino piccolo padre famiglia ci avrà un figlio si può avere una bambina può averne di più possono essere grandi invece è un bambino piccolo anche un bambino piccolo di 6 7 anni quello che sarà facciamo cinque facciamo cinque arrotondiamo comunque questo uomo qui aveva il problema aveva il vizio del gioco ok vizio del gioco e per una serie di dritte sotterfugi riesce a trovare una una gara truccata e quindi una puntata sicura punta una quantità di soldi che non ha li punta con le persone sbagliate chiaramente succede che la gara che la gara truccata non va come doveva andare perché arriva il cavallo c'è l'infarto c'è l'infarto c'è l'infarto c'è l'infarto c'è l'infarto esplode il cuore del cavallo il cavallo muore proprio il cavallo vediamo pezzi cavallo ovunque no no non così non così muore il cavallo muore e subito dopo la la corsa subito dopo la corsa lui chiaramente si rende conto di aver fatto una stupidata colossale torna alla macchina dove come ogni buon padre di famiglia lascia il figlio in macchina per andare a scommettere ai cavalli è un genitore si proprio lui torna alla macchina la macchina è sparita con il figlio arrivano due scagnozzi e insomma succede un po quello che deve succedere muore lui la moglie e anche il bambino è il fratello del cavallo e il fratello è povero anche il cavallo è povero anche cavallo ah beh sì beh è certo è certo che cazzo di dire freddino che cazzo ne è bravo freddino perfetto bravo freddino bravo freddino grande grande freddino questa è la premessa del film la storia iniziale del film da qui poi si sviluppa tutta la trama principale ma in realtà no in realtà questa strana qui sembra che non c'entri nulla col film perché poi inizia un film dove c'è sto tizio che la fidanzata gli fa le corna gli rubano il portafoglio e l'orologio va a casa del suo amico il suo amico non ci sta arrivano due tizi a casa che gli dicono tu vieni con me e questo qua fa ok ci stanno arrivando se tu smetti con questo brutto vizio di interrompere le persone lo portano da che mi spesi no chi era no ma che che mi spesi i calvi li confondo sempre come morgan freeman morgan freeman è vero scusami no l'altro è rabbino comunque portano da morgan freeman e morgan freddino fanno sai che tu mi dividi dei soldi no l'amico mio e fammi vedere che non sei l'amico tuo a mano freeman di portafoglio faccio le cacchie dammi i soldi se non ti ammazzo poi lo prendo un altro tizio che il rivale di questo qui il rabbino fa sai tu mi devi dei soldi ma non sono io l'amico mio fatta fammi vedere che se non sei l'amico tuo non mi hanno rubato il portafoglio e quindi lui si trova nella merda posso dire che hai raccontato la trama veramente un bijou al bacio e quindi niente quindi lui si trova nella merda però come vicino di casa c'ha gli uc liu e quindi diciamo che bilancia la cosa vabbè non abbiamo detto l'altro attore importante allora a questo punto l'attore che è stato scartato dal film il talento del calabrone che è bruce willis perché il talento del calabrone è identica da yard 3 però manca john mcclain che viene fatto dalla foglietta cioè che john mcclain parla poco e spara la foglietta parla tutto il tempo e non spara niente un colpo ma questo è per le quote rosa volevano mettere bruce willis però per per una questione di quote rosa hanno dovuto mettere la foglietta ma tu che ne pensi del fatto che la foglietta fa tutti i ruoli ovunque non ce la faccio più io devo pensarne qualcosa non penso niente del fatto che la foglietta faccia tutti i ruoli ma tu lo sai che secondo me faranno un film foglietta e favino e faranno tutti i ruoli loro due ma può darsi può darsi però per par condicio la foglietta farà tutti i ruoli maschili e favino tutti i ruoli femminili io lo guarderei e tu alfredi no assolutamente no alfredi però tu potresti fare una puntata però potresti fare una puntata del tuo tu credevi di essere assolto invece sei coinvolto alfredino adesso mi ha consigliato slam il patto criminale io non c'entro io non c'entro posso dire che comunque stasera col cittadinismo stiamo andando fortissimi pensavi di essere assolto invece sei coinvolto frecchete volevi volevi farla passare così anpassare e invece bravo perché c'è stato voi alfredino alfredino oggi tira fuori tiralo fuori ti prego tiralo fuori il fumetto tiralo fuori ah il fumetto scuse è l'abitudine eh sono ci bannano alfredino tiralo fuori vediamo se si vede bene stasera alfredino per chi non sta guardando la puntata in live sta facendo vedere un fumetto importantissimo the preacher perché ne parliamo perché ne parliamo parte che così ci abbiamo la scusa per far leggere un volume bello ad alfredino un fumetto bello ad alfredino che è la mia serie preferita non era più bella di tutte però ognuno ha la sua serie del cuore ok non è iniziata a rompere i coglioni sotto i commenti lo so che ci sono soli più belle e sti cazzi non ci metti però è tra tutte le tematiche è la sua lettura per me è stata così eh un'esplosione di emozioni e tutto eh lo trovo la mia serie preferita ora l'ho fatta leggere dalfredino perché quello che avete visto voi in live ma chi non l'ha visto in live sappia c'è la versione cartonata di eh della lion che sono sei volumi ma la panini dal mese scorso la sta ristampando è una serie finita non è quelle robe infinite e quindi ne parliamo perché c'è la nuova edizione panini ed è giusto che se voi amate the boys o comunque la poetica di eh come si chiama gar tennis che è l'autore di the boys il fumetto da cui è stato tratto la serie vi piace la serie the preacher che però fa schifo quindi se vi piace la serie the preacher meglio ancora perché il fumetto è tutto il bello che c'è in quella serie moltiplicato per il resto bello è quello che vedi bello c'è in quella serie senza il brutto che c'è in quella serie esatto alfredino raccontaci un po' prima di tutto come ti è sembrato leggere un fumetto bello tu che sei un mangiamerda oh io ho io ho visto film e serie tv brutte molto discutibili però io fumetti brutti non ne ho mai letti bravo alfredino no non è vero non è vero ho letto pure altri fumetti dimmi un altro è tutta la quasi tutta la serie di di batman new 52 per esempio beh snyder sì snyder fa schifo nei finali però si è buona il ritorno del cavaliero scuro il ritorno del cavaliero scuro l'ultima crociata non è che fosse proprio l'ultima crociata cosa il cavaliero scuro copisce ancora vuoi dire che l'ultima crociata no era quel era il volumetto quello dove c'è il robin ho capito dove c'è il robin ma è un certo diciamo che lo leggi non lo leggi cambia poco insomma non è che non di batman cos'hai letto non di batman ho iniziato a leggere la serie di costantin reberto reberto lascia perdere reberto lascia perdere ma dove hai trovato reberto è su amazon no è che fa abbastanza schifo quella reberto posso dirtelo e io ho iniziato a leggerlo poi dopo devi leggere quelle di delano poi poi ne parleremo di costanti io ce l'ho tutto è il brezzer ce l'ho tutti 300 numeri di al brezzer posso dirlo è il brezzer e devo dire sembra il prezzel posso dire una cosa in realtà tu sei stato sfortunato perché la reberto faceva schifo ma quella prima invece quella di dcu adesso gioco un piccolo adesso stiamo parlando di sta roba poi poi torniamo al discorso principale invece è molto carina di 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 al brezzer e soprattutto mi sa che molto carina anche la versione nuova la nuova serie che è uscita adesso supervisionata da grant morris da grant morrison da qual è quello che capelli biolunghi carino che fa i fumetti un po dai che fai fumetti ha fatto 16002 ha fatto quello che c'è tatuato tu sul braccio sandman neil gayman neil gayman ok neil gayman ha fatto il suo universo adesso ha fatto il sandman universe ok ha fatto il sandman universe dove sono tutte le serie associate a sandman che sono sandman sono the dreamers wheelhouse eccetera eccetera lucifer quello è comunque bello quello bello fatto da carrie poi ne parleremo di lucifer però c'è anche el blazer sempre che adesso uscirà adesso mi sa johnny esce il volume te lo consiglio alfredino del sandman universe quello lì è molto caruccio quindi dovrebbero essere due volumi per ora la serie mi sa che si è conclusa dodicesimo numero però dovrebbero esserci altre iterazioni mi hanno detto che un ritorno alle origini ben fatto quindi non di prendere colori birte porca puttana sembra che c'è una mira no quelli li ho presi e giuro l'ho preso a caso costanti perché volevo leggere qualcosa di costanti però ho letto primi due volumi ma poi non è che mi abbia in difesa di alfredino effettivamente poverino lui non è che ha amici che abbiano mai letto qualche fumetto e quindi a cui può chiedere un consiglio prende giustamente le prime cose che gli capitano merda 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 chi non lo dice l'ultima volta scusa ma l'ultima volta che ti ho chiesto un consiglio fra mi hai consigliato un fumetto torrendo il soggetto il fiore la serpe si chiama vai a cacare alfredino vai a cacare che bello ti devi spaventare ti devi spaventare posso dire però che è successo che ti è successo alfredino uno fra che te zero alfredino che c'hai non sei più meta non sei più rock che ti è successo comunque dai raccontaci the preacher vai come ti è sembrato prima raccontaci la trama e poi come ti è sembrato facciamo un lavoro fatto a mestiere ti prego vai a posto the preacher racconta le le avventure di jesse caster un un predicatore che vive in un paesino del texas che si ritrova fuso con una una creatura scappata dal dal paradiso che è il risultato dell'unione tra un angelo e un demone che gli dà il potere della parola di dio cioè lui può dire alle persone di fare quello che vuole le persone sono costrette a obbedire lui fai questo e loro lo devono fare per forza con questo potere lui decide di iniziare un viaggio insieme accompagnato dalla dalla sua ex fiamma e da un improbabile alleato tale cassidi alla ricerca improbabile alleato che tu sei scritto su fogli di carta cosa cosa è cassidi perché un cassidi è un vampiro improbabile alleato sembri il vigino che sta dietro i dvd dai improbabile alleato va continua normalmente non è che i vampiri a me improbabile alleato è piaciuto molto ecco allora e si incammia in questo viaggio alla ricerca di dio con l'obiettivo di rendere con di fargli rendere conto di di tutti i problemi che ci sono nel mondo lui vuole usare il suo potere per obbligare dio a confessare al al mondo perché lui li ha abbandonati questo a grandi linee è la è la è dato un cazzotto al microfono sì ho toccato no ho toccato dentro il filtro il filtro antipop vuoi riflettere di pop c'hai beh comunque continui continui stai andando bene a parte delle pugni al microfono no la serie la serie mi è piaciuta molto perché c'è c'è dentro tutto avventura violenza una buona dose di blasfemia quindi se se la blasfemia non dovesse essere di vostro gradimento magari evitate il fumetto e io ho letto il volume è un è un volume non è che sia grandissimo però va va via tutto ad un fiato insomma io l'ho letto in un pomeriggio lo leggi proprio con con piacere non non ti accorgi neanche di averlo di averlo finito praticamente va via va via proprio liscio e quindi comprerò sicuramente però adesso panini sta sta recuperando tutta quanta la serie quindi se volete la potete comprare tanto i numeri penso che di quelli di panini dovrebbero essere 11 all'incirca però io voglio subito a partire al razzo dicendo prima di tutto ma aspetta tu che hai visto la serie tu che hai visto la serie rispetto alla serie non c'è assolutamente nulla io a parte che la serie ho iniziato a vedere ho visto forse le prime tre quattro puntate poi a un certo punto mi sono annoiato talmente tanto che non ho più non ho più proseguito la serie no no non ce l'ho fatta giuro è proprio proprio una noia non succede niente qui le prime nelle prime pagine già già si scazzottano si ammazzano alla quarta puntata della serie quasi non era successo nulla e una differenza sostanziale anche che il racconto il racconto nel fumetto è è un viaggio come si dice on the road mentre invece nella serie stanno sempre lì fermi nello stesso nello stesso paesino almeno fin dove sono arrivato io quindi le prime cos'era tre quattro puntate poi veramente non ce l'ho fatta proseguire il fumetto è proprio tutta la storia tutta la storia è molto più dinamico molto più più avvincente non c'entra veramente niente ma niente niente con con la serie beh io posso dire una roba prima di tutto io credo che questa serie qui non solo sia quello che ha detto alfredino dedicherò una puntata o magari anche no perché sono la mia serie preferita ne parlerai per tante puntate del podcast per approfondire quanto il tema principale di the preacher non sia la blasfemia non sia neanche la violenza a volte grottesca i personaggi laidi faccia da culo no è proprio un personaggi emblema di poi di quegli anni perché poi comunque un fumetto che quando l'ho comprato dovete pensare che sia uno stranger things dieci anni dopo perché non perché stranger things perché stagione fa cagare però perché parla proprio degli anni 90 in una maniera veramente approfondita perché uno dei personaggi si spara in bocca per emulare carcobain quindi dovete pensare questo fumetto è molto anni 90 ci sono anche i comici stand up comedian in 90 da cui poi hanno copiato i nostri comici italiani come lutazzi c'è curling mi pare no e quindi è un fumetto che racconta tanto di quella di quell'america degli anni 90 un'america che sembrava di essere invincibile col personaggio principale che si chiama jesse caster non a caso no come il general caster e poi soprattutto parla di amicizia perché questi tre personaggi amicizia amore i tre personaggi che sono cassidi il vampiro e poi tulip la ragazza che aveva mollato jesse jesse ha mollato la ragazza per prendere i voti questi personaggi non solo c'è questa grande amicizia che li lega e di grande amicizia si parla ma anche di amore e soprattutto non è neanche tanto blasfemo non sapete tanto con le divinità quanto però con la chiesa e tutto quello che c'è intorno infatti è molto critico con l'impalcatura con l'impalcatura cioè secondo me è molto più sboccato the boys the preacher è un po come la differenza c'è tra tarantino e rodriguez rodriguez caga fuori dal vaso così invece tarantino è sempre borderline facciamo fin da che rodriguez e the boys invece the preacher il fumetto ovviamente riesce a mantenere una via che sembra sempre buttarla fuori ma poi jesse fa sempre così tira fuori la sigaretta l'accende dice la sua frase d'effetto e tutto torna normale e poi diventa un cliché diventa poco come la musichetta di scrubs il fatto che ogni volta che c'è un discorso arriva jesse sigaretta no perché e ti racconta la vita l'universo e tutto quanto poi ragazzi è una serie a fumetti che io ve ne parlerò più approfonditamente ma c'è un'altra cosa che vi devo dire quando uscì ci fu una una bagarre in italia una bagarre sul finale sul finale il penultimo numero di the preacher venne etichettato dagli editori dell'epoca mi sembra play press giusto se non sbaglio magic press scusami cos'è chi era che la pubblica non mi ricordo non era planeta no non era planeta non era planeta però comunque uscì no planeta fece le bibione le tre volumi omnicoprensivi ok che era vecchio nuovo testamento se ti ricordi prima ancora c'erano i brusuratini prima ancora c'erano i brusuratini nei brusuratini l'ultimo il penultimo numero venne scritto come l'ultimo e molti dissero mamma mia com'è finito troncato the preacher mamma mia poi uscì il vero finale il mese dopo e scoprì che erano gli editori che avevano scritto questa cosa perché il finale non gli era piaciuto e volevano che volevano dire che per loro il vero finale era quel numero lì ora secondo me il finale di the preacher se non piace è perché non si è capito un cacchio di the preacher perché io penso che chi non ha capito che quest'opera è molto di più di quello che fa vedere è molto più profonda e parla di di questioni molto più come ti posso dire pulite rispetto a tutto lo sporco che sporca il racconto non può capire come il finale sia perfetto un finale che io reputo tra i più belli che abbiamo mai letto un elogio a tutto quello che ha rappresentato the preacher quindi se volete leggere the preacher qualcuno vi dice che il finale fa schifo urlate in faccia il vostro sdegno dicendo voi di the preacher non avete capito un emerito cazzo e me l'ha detto una catarsi bellissima e toglietegli amicizia da facebook la catarsi non è una spada giapponese per chi non sapesse volevo dirlo così perché magari la gente pensa che la catarsi tu che ne pensi signor nico nonostante non sia di nil gay man questo fumetto ti piace io sottoscrivo in toto quello che hai detto piace molto anche a me the preacher è una delle mie serie preferite soprattutto perché la premiata ditta gar tennis steve dillon sai che la mia anima buonanima 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 veramente il mondo del fumetto ha perso uno dei suoi più grandi disegnatori questi dili e sai che la copiata gar tennis steve dillon è probabilmente la mia preferita in assoluto e mi l'altra volta era jollo e loeb e se il mo è cambiato già no 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 te l'avevo detto che era un paraculo seconda solo a gar tennis steve dillon quindi quindi mi stai dicendo che mi stai dando ragione e purtroppo sì purtroppo sì non ci sarà nessun sondagione questa volta e allora andiamo invece a parlare visto che siamo stiamo facendo tardi niente lag della serie la serie che vi consiglio è una serie che potete vedere in poco tempo basta ste serie di 12 stagioni che dite non vuole iniziare che palle vi dico una serie che ha due stagioni che si possono vedere entrambe in una serata perché dura poco le puntate sono sei ed è come vedere un film lungo chi di voi conosce rick gervais rick gervais un famosissimo comico inglese che ovviamente quando va a presentare golden globe ogni volta fa dei discorsi che vengono condivisi da tutti su su facebook quindi lo conoscete diviso perché tutti voi quando vi vedrete quel quello dei golden globe con le golden globe molti non lo sanno quelli là che sono tutti fanatici di the office che the office è nato in inghilterra ed era di rick gervais ed era una serie di due stagioni dove c'era anche bilbo baggins da giovane in questa meravigliosa serie ed infatti tutte le trovate divertenti di the office sono state fatte in the office english in the office original anzi e forse era anche peggio perché la versione inglese era ancora più sporca e l'idea dava proprio l'idea di dell'ufficio brutto rispetto a the office cioè il cringe vero era the office inghilterra quindi se vi è piaciuto office america che sono le stagioni guardatevi office inghilterra che sono due ed è l'originale così potete fare i fighi nei salotti degli amici dicendo steve carell molto meglio rick gervais e fate così ma quale vi voglio consigliare invece io rick gervais è un personaggio comunque atipico che ha fatto grandissimi opere ma soprattutto è bravo perché come woody allen è capace di dare fuori dei discorsi di dialoghi i suoi film non succede nulla si parla tanto ma quello che si sente è meraviglia per le orecchie se avete un po di cinismo nel cuore rick gervais vi farà impazzire perché a questa serie su netflix penso sia conclusa perché comunque penso che il finale possa essere un finale conclusivo e si chiama afterlife sono due stagioni e parla di rick gervais che ha perso la moglie che era malata di cancro vediamo lui che si guarda la moglie in video che gli dice mi raccomando non fare che ti primi sembra tipo ps all'ovio avrete presente quel film orrendo dove c'è lei che tipo dice devi divertirti non devi buttarti giù lui sta a casa sua solo col cane che tende a tutti i modi di ammazzarsi no a un certo punto capisce che è meglio non ammazzarsi e dice ma sai ci sta di nuovo la vita fa schifo però adesso posso trattare male tutti quanti poi ovviamente se ci succede qualcosa mi posso sempre ammazzare sono come un supereroe che ho il potere di trattare male le persone quindi inizia lui si sveglia e va in giro a trattare male tutti a dire quello che pensa delle persone tipo c'è quello lì che tipo gli dice ma lasciato la cacca del cane e sti cazzi non ci rimetti e quindi inizia a trattare male tutti però si accorge che solo trattare male le persone fa soffrire le persone banalmente e vediamo il percorso di un uomo che cerca di ritrovare la sua felicità persa con l'unica ancora della realtà che il cane che ogni volta che lui cerca di ammazzarsi il cane che gli abbaglia contro e vediamo come in una serie che sulla carta è tristissima perché lui lavora in un giornale tipo metro quelli gratis che vengono dati nella cittadina va a intervistare persone che ti raccontano di come hanno trovato un dente uguale a freddie mercury non il dente di freddie mercury un dente che somiglia freddie mercury lui fa queste interviste qua e vedi come lui a un certo punto deve cercare in qualche maniera perché anche se non lo dice cerca di trovare un modo di sopportare questa perdita con il padre che ha l'alzheimer ogni volta che lo va a trovare diceva come sta tua moglie mia moglie è morta e quindi vediamo proprio la sofferenza di quest'uomo ma rick gervais riesce a farci ridere e a commuoverci contemporaneamente vediamo una persona che non ha più nulla da perdere che vorrebbe perdere qualcosa ma non ha nulla da perdere e cerca in tutte le maniere nonostante ci faccia capire il contrario che vuole qualcosa da perdere perché quello che fa soltanto dal mattino alla sera è guardarsi video della della moglie ormai andata via e dare da mangiare al cane e mandare a fare in culo le persone ed è una serie meravigliosa una serie sul che mi hanno detto molti dicono che sia a volte stucchevole secondo me no i momenti in cui lui si apre un pochettino il personaggio principale sono autentici adoro tantissimo anche lo psicologo che non fa altro che raccontare di come lui tromba tutte le sere e dice al tipo che non ascolta neanche dicendo ma tu lo sai che ci sono dei rapporti sessuali a sé che un il titolo che viene qua mi ha raccontato sta roba e lui gli fa ma scusami psicologo non dovresti dimmi ste robe ma sì ma vabbè dai il psicologo coglione è fantastico perché avrete voglia di picchiarlo tutti i giorni perché ogni volta che lo psicologo fa ma perché cazzo sono andato qua a darti i soldi a te sta faccia di di merda afterlife è una serie che secondo me rende bene poi tutti i personaggi che ruotano intorno all'entourage di di gervais c'è il maniaco del paese che non fa altro che raccontare di come lui si sia aveva fatto l'amore con grandi personaggi famosi che è lo stesso che faceva il bidello in come che si chiamava la serie dove lui faceva il tizio nella casa di riposo tutti ricordano come si chiamava derek ecco vedrete molti personaggi già visti una serie derek c'è qualcosa da dire hai dimenticato una cosa vai dove dove si trova questa serie si trova su netflix bravo alfredino che finalmente in 11 puntate che non è detto un cazzo di utile finalmente dice qualcosa di utile benissimo e che posso dire che con questo questo consiglio penso che ovviamente siamo online cioè siamo abbiamo già superato i 40 minuti quindi io devo distingere un pochettino è una serie meravigliosa volete dire qualcosa su sta serie così poi iniziamo a dire le solite robe da fine puntata no no non l'ho vista come non l'hai vista tu l'hai vista tu dico sì 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 come te sembra ti è piaciuto a te mi è piaciuto molto inizialmente mi ha un po' stranito perché quando ho visto una serie nuova di ricky gervais mi aspettavo di vedere ricky gervais il solito ricky gervais cosa che non è però guardando la serie tu riconosci la sua comicità senza avere la macchietta ricky gervais quindi mi è piaciuta molto no no infatti è molto anzi lui finalmente recita molto bene perché di solito lui fa sempre il personaggio come voody allen non è molto sfaccettato è voody allen qui ricky gervais che recita recita quindi recita e lo fa anche molto bene e poi passa veloce perché sono comunque pochissime 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 puntate quindi potete guardarvelo tranquillamente in due serati come se fosse afterlife 1 e afterlife 2 la vendetta dei sit beh però mentre mentre se tu guardi la serie di lui ck rivedi lui ck come come nei suoi spettacoli stand up comedian e lo rivedi nella serie ricky gervais in afterlife non fa la stessa cosa che fa nel negli stand up comedian beh ma infatti infatti è qualcosa in più quindi a me è piaciuta molto per quella ma anche ma anche quando faceva the office non era ricky gervais quando faceva the office era il capo stupido sì 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 ed è ci sta a me questo piace molto di ricky gervais ha scritto molto bene infatti non vedo io spero che non ci sia una terza ma che venghi arrivi con un'altra serie arrivi venghi venghi signori venghi venghi vi dico ragazzi che per voi che state ascoltando il podcast io riprenderò a fare podcast da soli il 9 di dicembre mentre ovviamente il 4 dice no il 4 il 7 dicembre lunedì ci sarà di nuovo la puntata tutte e tre assieme quindi se settimana vi beccate soltanto sta puntata però però questa settimana vi beccate soltanto una puntata perché mi sono venuti a prendere un attimo un po di pausa perché devo finire di fare un lavoro sono stato male settimana scorsa e poi saranno anche i cacchi miei vi ho promesso che non mancherò mai quindi come potete vedere almeno una puntata settimana ci sarà da settimana successiva settimana del del 6 di dicembre si torna in pompa magna tre puntate a settimana ma per farmi perdonare ragazzi venerdì che giorno è andiamo a rileggere 4 dicembre venerdì 4 dicembre ci sarà una puntata dove spiegherò una live una live su twitch quindi canale defract dove spiegherò per filo e per segno come si realizza un proposal da portare una casa editrice ovviamente lo farò per spiegarvi meglio il concorso polignani che mi vede giudice quindi lo faccio anche per me per avere dei proposal ben scritti in modo che non debba impazzire ma è una cosa utile non solo per voi ma anche per chi magari non vuole mandare un proposal polignani ma lo vuole mandare un'altra casa editrice io ho avuto un sacco di no ma tutti non mi dicevano sempre comunque il proposito l'ave fatto bene grazie quindi se avete delle domande non sapete avete dei dubbi segnateveli perché alle 7 di venerdì 4 dicembre farò questa live su defract il canale th e frec e vi risponderò a qualsiasi dubbio nel frattempo se volete partecipare al bando perché avete già un proposal che secondo voi è figo oppure avete un romanzo o un raccolto di poesie potete partecipare al al bando che potete leggere in descrizione oppure venite nel gruppo telegram a insultare alfredino e parlare di cinema con noi il link sempre in descrizione e poi se vi interessa intervenire sulla mia pagina instagram comunque il link è in descrizione quello sta e niente tu vuoi dire qualcosa alfredino no hai già detto tutto tu sei stato bravissimo non avrei saputo dirlo meglio paraculo o parachutes come il disco dei colplay tu invece nico volevi dire qualcosa sì io ho delle rimostranze da fare riguardo al sondaggio testefatto questa settimana sul film di lupen io ho delle rimostranze da fare riguardo al giro il suo film di lupen sondaggio testefatto questo film di lupen sondaggio testefatto questo film di lupen